Ciao ragazzi, qui è la nuova serie che farò e questo è la prova con me e miaghe su questo gioco. Purtroppo sì ragazzi, qui è la prova con me e miaghe, perché questo gioco si fa prova con me e miaghe. E quindi un nuovo avvisione su questo gioco, quindi avrei tutto, questo mi fa veramente meravigliare e io per quei giochi sono veramente malacoli per giocare. Grazie, è la nuova versione. Grazie. Ok, io sono arrivato qua e non ho cercato il cazzo, non ho cercato il giuro e andiamo. Io le faccio il gioco, non ho cercato il gioco, non ho cercato il gioco, non ho cercato il gioco. Ok, io sono arrivato qua. Questo è il gioco, non ho cercato il gioco. Io mi vengo a incontro, ecco, 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 già cominciamo male. Guarda. Guarda. Ok. Ok. Perfetto. Allora, un momento, guarda. Ah, no, che è successo? Eh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah no no ok Ok. Perciò. Ma che mi fa s'agga... ... che mi fa s'agga... Ok. Perfetto, dai, dai, dai! Sì, sono croppi, sono croppi! Sono croppi, così ho occhi un ghiolo! Guarda, guarda! Guarda quel cazzo un ghiolo, guarda! Guarda! Come cazzo si fa io? Boi,�,cioni megà! Guarda, guarda! Guarda, guarda! 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 Guarda, guarda! Se muo la bossa e chi con me è il mio regale. Mi sono messo l'anni a finirlo con il gatto di gioco. E ancora la mia riga. Se arrivo a bossa, che muo lo chi con me è il mio regale. E' il palazzo. No, no, no. Non magari la cosa ancora vera, eh? Ok, c'è ora. Non, mamma mia il culo! Non! Non, è un colone. Dai, che prego, che prego, che prego. Dai, che prego, che prego, che prego. Dai, che prego, che prego, che prego. Dai, tu non ti vuoi, tu non ti vuoi? Dai. No, no, vai. Corri, per certo. Dai, 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 ti rompe il mio regalo, io. Dai, è un porco Dio. Porco Dio, sì, dai. Era una gonga puttana. A vedere. Originato? Sì. Venga, ci vediamo al prossimo video, e questa clip la metto e solo per voi. Ci vediamo al prossimo video. Bene, venga. Ciao.